Ciao a tutti, le carotte e le lipede in questo video per far dimostrare quanto sono pazze sentite carotte, non fate queste brutte cose allora, innanzitutto vogliamo farvi vedere un attimo come siamo pazze, perchè siamo pazze, devo fare una cosa sicchissima sicchissima, sicchissima allora, per prima dobbiamo fare lo scivolo allora, se volete scendere dalle scale più velocemente fate così e siamo per tre ragazzi, non con noi, la netto la netto, guida ecco siamo un gol di noi siamo la mia amica io ci vedo allora, ciao io mi metto i capelli così e loro mi guardano così io mi metto i capelli così mi guardano così va bene io mi metto i capelli così e loro come che ti guardano così così allora, adesso? è perchè loro e la netto ama Antonio o Antonio? no, veramente Antonio ama il maneto Guido no, sì, infatti Guido no, no, ma te Guido siccome non l'altra volta mi ha detto di sì se stai guardando questo video scrivici giù o a me o a Martina dipende dipende io sono fichissima brava pazza brava scuola brava a fare le ruote e non sei una bull non sono una bull infatti sono brava scuola rispetto alla maestra e fra tre minuti no, prima di fare questo video mi ha chiamato la maestra e non sapeva una cosa e mi ha parlato avevo i brividi perché? mi vergogna per andare al telefono con la maestra e facciamo questo video che è picchissimo perché le mie calze sono belle aspetta io faccio danza sì, allora facci vedere qualche passo Fede, no? eh sì, però se lo ripendi certo perché la scuola è bella sono fatta ripendere così per ballo ok può ballare signorina mi ha fatto imparare così non so se Dilli sei bravissima o sei peggiorissima dai vai così la smetti la smettica rotta dove lo metti quel video? ok dove lo metti quel video? no, la teniamo così ah lo tengo una coscienza di Google ok guardate le mie lezioni di danza guardiamo le sue pessime lezioni di danza oh ah mi sono fatta male mi sono fatta male ragazzi quanto è che si mavolava ma 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 dai non mi disturba vai guardate una cosa che stanno fare non lo so tutti ma Sofie è il mio sempre a Sofie e ci hanno questo lì e ci vediamo nel prossimo video perché il video sta per quindi ci vediamo guardate le mie no, guardate le mie cercetazioni di danza ciao no, no, non so fare scusa ciao a tutti lei è Carlotta e ci vediamo lei non devi urlare ciao a tutti 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 Grazie.